Non ho deciso di fare un cinema che è comedia o tragedia, è la maniera in cui io vedo il mondo, perché il mondo è da ridere e da piangere anche, le due cose sono insieme. Quindi ho voluto fare un cinema che parlava della società, di come la società avanza, si avanza, come cambia, come dovrebbe cambiare, non cambiare. E' un'observazione della società, il mio mestiere è artistica, perché lo faccio con gli attori, con le immagini, con la pittura, con il suono, la musica, è un'arte che parla della società.